Lo spirito quando sono arrivato in Italia era fatto così, ma io ero giovane, quindi tanta forza, un po' di ingenuità, ma tanto desiderio diciamo di cambiare il mondo. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. La mia storia inizia 25 anni fa quando ho deciso, quando ho accettato di colire l'opportunità della borsa di studio dattemi dal mio governo, io ero un privilegiato perché io avevo appunto questa speranza di cambiare il mondo, cioè di affrontare il mondo, non c'era nulla di spaventoso, forse è la cosa ancora che dentro di me mi permette di aver successo, invece c'è chi altro che viene purtroppo ottimamente con il desiderio di trovare un mondo diverso, insomma, la storia naturalmente ci racconterà se siamo riusciti in questa impresa, sia loro che Dio. Quello che fa la mia diversity, il mio vantaggio, è di essere praticamente frutto della contaminazione, contaminazione fatta da due origini diverse, origini africane e origini occidentali. Sul posto di lavoro questo mi fa avere qualche volta una marcia in più, perché laddove potrebbe crearsi una criticità ragionando all'occidentale, diciamo, viene a diventare una cosa snella, una cosa smart perché la vorrei risolvere con la metodologia, vuol dire, africana. insomma, ho imparato che sul posto di lavoro le differenze fanno la differenza. D'accordo, d'accordo.